Ciao a tutti carissimi e benvenuti su Digital Best. Basta con i soliti regali, ogni anno si rischia di perdere la testa per capire cosa può piacere più a uno e che cosa può andare bene all'altro e basta. Perché invece non regalare qualcosa di divertente? Perché non prendere l'occasione per fare uno scherzo a qualcuno? Oh però se poi si arrabbiano non ve la prendete con me, cercate di scegliere le persone che sapete già accetteranno lo scherzo. Non fate troppo ai bastardelli perché a Natale, come sapete, bisogna essere più buoni. Ma uno scherzetto piccolo, innocuo, innocente per ridere in compagnia si può anche fare. Quest'anno per cambiare un po' e uscire dai soliti schemi ho selezionato questi regali spassosi proprio per questo scopo, che vanno bene sia a Natale o in tante altre occasioni. E come sempre vi lascio tutti i link proprio qui sotto nella descrizione del video. Vi avverto alcuni di questi gadget possono lasciare l'amaro in bocca, quindi per alcuni sarebbe bene darli come pre-regalo. Quindi ad esempio fare lo scherzo e poi dire ma dai eccolo qui il tuo regalo vero. E vedrete che sarà anche un modo per farlo apprezzare di più. Ed è il caso di questo gadget che vi presento ora. Ah sì? Continui a dirmi che non vuoi niente per Natale? Non ti piace niente? Hai già tutto? Ed eccolo qui, un bel niente. Confezionato a dovere con tanto di certificato di congratulazioni. Non iniziate a criticare adesso perché questa è un'azienda seria che dà anche delle garanzie. E infatti dice garantito al 110% che non contiene assolutamente niente, non fa niente e non serve a niente. E ascoltate anche questa avvertenza dell'azienda. Non c'è assolutamente niente davvero. Se trovi qualcosa è difettosa. Quindi mi raccomando se doveste mai trovare un'utilità in questo gadget potete renderlo con questa motivazione. Quest'anno volete regalare una buona bottiglia di vino a un intenditore ma non volete usare la solita confezione? Ecco qui il portabottiglie rompicapo. Il destinatario del vostro regalo dovrà spremersi le meningi per poter arrivare alla soluzione e infine riuscire a liberare il vino dalla sua prigionia. Per evitare crisi di nervi troppo intense sono presenti delle istruzioni passo passo per risolvere il rompicapo. Istruzioni che voi da bravi amici darete solo in un secondo momento. Ad esempio quando il malcapitato vi guarderà ormai esausto e con le lacrime agli occhi. E per gli amanti del sudoku ecco un gadget che gli darà la possibilità di giocare al loro rompicapo preferito anche in bagno. Infatti è un rotolo di cartigienica con stampati i classici schemi del sudoku. E invece per i fissati col denaro ecco un rotolo di cartigienica degno di paperon de paperoni con delle belle 100 euro stampate sopra. E rimaniamo in tema con questo golf da toilette che offre la possibilità di allestire un mini campetto da golf con tanto di buca e mazza. Per rendere meno noiosi i momenti prolungati in bagno. E chissà che un po' di movimento non stimoli anche meglio l'intestino. Caro amico, marito, fidanzato, insomma quello che è. Visto che hai vissuto un anno carico di stress con tanto amore ti regalo due palle nuove. Il barattolo è vuoto e quindi dovete metterci voi dentro quello che volete. In base anche a quello che scegliete. Infatti è disponibile anche l'energy drink daie che ce la fai. Il barattolo dei ricordi 2019 e anche 2020 per i ricordi che verranno. Poi c'è sto c***o. Un tubo, quindi praticamente niente, che si collega al regalo di prima e qualche altro ancora. Ecco ora un piccolo organizer per ufficio da regalare a qualche collega con il senso dell'umorismo. Un simpatico personaggio di colore blu o rosa, seduto su un water, vi porge gentilmente una penna con la bocca e un rotolo di scotch con le braccia. Dietro c'è spazio anche per dei post-it e altre penne e matite. E infine per gli amanti del sushi ecco dei calzini piegati in modo da sembrare proprio dei nigiri al salmone. All'interno della classica confezione dei sushi bar da sport. E troviamo anche altri modelli con più calzini e che riproducono altri tipi di sushi. Beh ragazzi ce ne sono anche altri di questi gadget scherzosi ma ho voluto evitare i più cattivi. In fondo siamo a Natale. Vi ricordo che proprio qui sotto in descrizione vi lascio i link a tutti i gadget scherzosi che vi ho presentato nel video. Lasciate un bel like, condividete e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto. Mi raccomando però attivando anche la campanella delle notifiche per non perdervi nessuna delle prossime novità. Un caro saluto a tutti e alla prossima. Ciao!